Tutti in vacanza, tranne i ladri. Escalation di furti in Brianza, in particolare a Monza. Toppi d'appartamento in azione, nella zona dello stadio e nel quartiere Cederna, dove hanno gettato un gatto dal balcone perché intralciava il loro lavoro. Nella settimana di Ferragosto le città si svuotano e si moltiplicano i colpi. Preziosi consigli dei carabinieri per difendersi, fondamentale la collaborazione tra vicini di casa in modo che vi sia sempre qualcuno in grado di tenere d'occhio le vostre abitazioni, spiegano i militari che elencano il decalogo antifurto. Chiudere il portone d'accesso al palazzo, non aprire se non si sa chi ha suonato, installare dispositivi antifurto collegati possibilmente con i numeri di emergenza, conservare documenti personali nella cassaforte ognun altro luogo sicuro. Fatevi installare una porta blindata con spioncino e serratura di sicurezza, videocitofono, telecamera, circuito chiuso, suggeriscono i carabinieri. Ogni volta che uscite di casa ricordate di attivare l'allarme. Se avete bisogno della duplicazione di una chiave, provvedete personalmente o incaricato una persona di fiducia. Evitate di attaccare al portachiavi i targhetti con nome e indirizzo che possono in caso di smarrimento fare individuare immediatamente l'appartamento. Mettete solo il cognome sia sul citofono sia sulla cassetta della posta per evitare di indicare il numero effettivo di inquilini. E ancora, se abitate a un piano basso o in una casa indipendente, mettete grata alle finestre oppure dei vetri antisfondamento. Illuminate con particolare attenzione all'ingresso le zone buie. Se all'esterno c'è un interruttore della luce, proteggetelo con una grata o con una cassetta metallica per impedire che qualcuno possa disattivare la corrente. Se vivete in una casa isolata, adottate un cane. Non mettete al corrente tutte le persone di vostra conoscenza e dei vostri spostamenti. Nei casi di breve assenza o se siete soli in casa, lasciate accesa una luce o la radio in modo da mostrare all'esterno che la casa è abitata. Considerate che i primi posti esaminati dai ladri in caso di furto sono gli armadi, i cassetti, i vestiti, l'interno dei vasi, i quadri, i letti e i tappeti. Se avete degli oggetti di valore, fotografateli e riempite la scheda con i dati considerati utili in caso di furto. Se vi accorgete che la serratura è stata manomessa o che la porta è socchiusa, non entrate in casa e chiamate immediatamente il 112 senza toccare nulla per non inquinare le prove.